Qualcosa rosa? Sembrano di cose per costurare i cessi Vabbè nessun danno in questo caso ok Avevo modo per fare altri punti sostanzialmente Ma sono qua o? Eh questa volta Non so perché parte la... io ho tenuto... a me sembrava aver premuto L1 però si è curato invece Come se avessi scherzato la pozione no? Tutti scarsoni qua Vabbè Ma si andiamo all'atrio Pare che penso che abbiamo fatto però Oh... Ehm... Why are Shinra weapons attacking the Shinra building? Is this Genesis is doing... Activating combat mode. Ah! Conflict resolved. Damn! They're swarming us! Activating combat mode. Activating combat. Activating combat. Activating combat mode. Ah, which fool! Ok, ecco. Ok, 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 ok. Grazie a tutti. Non fa mai un cavolo. Hollander. Sì. E' quello che sta dicendo, no? Vabbè. Vabbè, oh. Hollander sought to head the science department. E' lost. E' nato a grudge contro Shinra ever since. E' vuole la rivenza. E' così pettico. E' Genesis supportando questa stupida cause? Non voglio crederlo. Beh, allora non. Sì. Ora, Zack. Copie sono stati citate in Sector 8, come si fa. So, let's go. This is bad. We should split up. Good call. Hold on. I'm coming. Ah, che certo. Mister, ho 100.000 occhiali nella tasca. Tutti uguali. Queste non le abbiamo mai viste, no? Sembrano i men in black questi. So, now we're outsourcing to the Turks. Soldiers being stingy. There's a manpower shortage. Duh. You're a Turk too? I'm Cisney. Cisney. I'm Zack. Pleasure to meet ya. Zack. Aren't you on assignment? Same objective. Need some help here? I appreciate the offer, bud. Oh, how generous. Well, Sung, Zack. I've got to go. Una nuova abilità. Buone stelle, ecco. Allora, come siamo messi? Tutti attacchi che subiamo sono sempre uguali. Cioè, sono tutte combo, sostanzialmente, che o le scriviamo sin dall'inizio, sennò bisogna subirle. Ok, andiamo qua. Che ci serve? Ehm, vabbè. Ehm, vabbè. Corso Loveless. Cioè, si chiama come una rappresentazione teatrale. Ehm, la questione secondaria, diciamo, alla fine. Ehm, vabbè. Activating combat mode. Ah! Oh, yeah! Oh, yeah! Quella scenettina, vabbè. Pistola enorme, eh. Lady, give us time to escape. Please, mister. I'll give you my favorite treasure. Yes, please. Il leggerente è un leggerente. Oh, le giabattine rosa. Ah, 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 ah. Vabbè. Activating combat mode. Oh, no! Noi, sei ridido guardavo. Allora vediamo un attimo Questo che ci ha dato che cos'è Magia spirito Forza e resistenza E la resistenza e la forza Spirito e la resistenza e la magia La fortuna è un'altra cosa Teniamo su questo Tanto per 5 in meno dell'altro No 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 Ma siamo al limite Perché non si Vabbè C'è Vabbè Mi ha paralizzato lì Activate in combat mode Ma perché ci sono i muri Cioè praticamente non si vede Non si vede Fuori E ci stunna tutto il tempo Ho ottenuto barriera Non si vede Quando ero un figlio, ho sempre chiesto di avere luce, come un angelo Se le persone avevano luce, saremmo monstri Luce symbolizzano libertà per quelli che non hanno. Non symbolizzano monstri Impressivo, soldi di prima classe. Tu hai skill. Beh, nonostante i turcchi, la battaglia è la cosa principale. Qui, un piccolo gift per aiutarti. Allora, sono andata al prossimo lavoro. Hai anche qualcosa? Sì, lo faccio. Ah, sono dei burattini, più o meno. Rigidissimi Questa è una caccia Ok Uh-huh Ah, quindi è una caccia e destrazione? L'armi sta mobilizzando, ma ancora c'è tempo. Tu e io li troveremo prima che... E? E cosa? F*** Fail Fail To eliminate them For real? Fallire Yes, for real Awesome! We're gonna fail Loveless Loveless Se la scritta Che poi ho un album si chiama Loveless che dei My Blood Valentine mi sembra si chiamano vecchio album di dream pop diciamo molto 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 particolare insomma quasi molto lo fai c'è la qualità Ok Comunque niente farò io quella delle vocazioni mi sa Così Senza impegno nel senso che se devo registrare Tanto, ripeto, non mi sembra questa grande utilità Difendersi da attacchi nemici Molti nemici sono in grado di sferare potenti attacchi Alcuni di essi potrebbero anche infliggere le alterazioni di stato Assicurati di parare per proteggerti da tali tecniche Quando esegui una parata i danni subiti sono ridotti e le alterazioni non vengono applicate Eh, stavo già facendo quella manovra la io Se ne ha fregato perchè io stavo facendo ormai l'abilità E comunque da primere L1 poi primere R1 Ah, questo è cronato su un mostro che l'avamo detto So Infinite in mystery Is the gift of the goddess We seek it thus And take to the sky Ripples form On the water's surface The wandering soul Knows no rest Loveless Act one You remember Loveless Loveless Non è proprio un bel posto Dove combattere Sono edifici che i là sotto Is that the best you can do All hail Sephiroth Angeal Stay back I'll take Sephiroth alone Genesis The world needs a new hero Come and try So smug But for how long? Come and try Stop You'll destroy this place That's no way To talk to a hero Ma questi Vorano Ma che superpoteri hanno questi? Altro che spada di Di Jigen Ha fatto a Fett Sarà contenta la Shinra? Ah Cioè ma fa questo per gelosia No capito No capito Angeal Out of my way Genesis Ah ok Era una simulazione Ma se non è una simulazione Perché hanno distrutto tutto Troppa energia Even if the morrow Is barren Of promises Nothing Shall forestall My return So So Was everything Was everything alright? Yes As far as Genesis Was concerned But As for Angeal Angeal? What happened? What happened? What happened? I received one of his famous lectures About what? Always the same Discipline Dreams Honor Etc One of those One of those So It's true They're in league With Hollander How could this happen? Vedremo Angeal What are you up to? Where are you? Quali ce ne sono? Piuma di Ciociobo Se vengono estratte tre immagini del Ciociobo Sarà possibile utilizzare l'abilità limite Ciocio Calcio C'è anche lui Cutset Se una strata tre immagini Sarà possibile utilizzare l'abilità limite Forza e coraggio Cos'è mi cura? Ottenendo il seguente oggetto L'immagine di un Moguri Va raggiunta E cosa che fa Potere Moguri Sì ma sono tantissimi Stanno facendo già Perdere la voglia Di seguito alcune delle missioni Attraverso cui Di seguito alcune delle missioni Attraverso cui è possibile ottenere indirizzo online Di vari negozi Cioè VVV eccetera eccetera Devo fare l'emissione per ottenerlo Cos'è? In terra c'è il bigliettino Che ho scritto un indirizzo web De settore 7 Segreto di Wtai Accessori Nibel Un negozio vende prodotti diversi Perciò è utile acquisire Numero maggiore Di possibile Di indirizzi Ma tra l'altro È 426 443 Cioè ce ne vuole Prima di arrivare Sto avendo alcune materie Ecco qua la scan Tratto possiamo montare Questo Previene a veleno Previene mutismo Questo qua magari se Visto che qua siamo che c'è il veleno Allora vediamo un attimo una cosa Vediamo questo Però Ma si lasciano così Attacco potente 28 Cioè L1 più R1 Ma chissà se riuscirò a farlo Attacco dall'altro Allora Allora Resolv Oh yeah Hollander's laboratory Is right down this way It's a private Unsanctioned facility We may find leads On Angeo All right Let's go Ma qua Finto Activating combat mode Quindi stai lì tutto il tempo Non posso colpire Ah no Che si è messo a usare la pozione Ma non posso colpire Ma non posso colpire Ma non posso colpire Che sto dicendo Allora Cioè è una cosa passiva Non è come la scansione L'analisi Diciamo Del Non è come la Dovevo Potevo solo parare Ma questo Non posso colpire Qui devo mettere su Il ghiaccio Allora Allora E' equipaggiamento Attacchi Ma questa però è la Lama Creo Forse vuol dire che è un attacco Comunque Di spada Quindi proviamolo Ma secondo me è un attacco di spada Questo Se io vado giù qua Ok Là è proprio la missione Questo qui forse Allora è un'altra cosa Vediamo un attimo Aspetta un attimo Sono stato io tirato da su O Poi è ritornato su da solo Ritornato su da solo Ok Siccome l'ho fatto Cioè A un certo punto Niente slot Spero che consumino Niente A parte che essendo Boh Probabilmente consuma Pochi K Non lo so Andrei Dovrei andare a vedere Cioè Essendo nato su PSP Non credo che consumi Più di tanto Cioè io Questi qui Sono qua Allora Eh si E' proprio Un attacco da vicino Sì ma comunque Che stupidata Ma perché Non potete venire Vicino a me Cioè Non capisco Non fa niente Ovviamente Vediamo Ah si Malavata Strano E qua E Qualcosa Là sotto Là Sì ma Per caso su di lui, perché lo fa sempre solo... no? Cioè siamo passati a due livelli per... per caso. Due livelli in un minuto. La porta non riceveva potere. La source è... Beh, fa fare tutto a noi questo qua. Un fancazzista, eh. Allora, come siamo messi? Vabbè. Eh, per scendere lì... Cioè adesso... Cioè non dimmi che devo tornarla... Principessa dei tesori. Sto cercando un compagno per andare a caccia dei tesori. Ti va di venire. Nel caso tu sia interessato, dimostrami quanto vali. Si dice che da qualche parte nella pienura il Dipartimento degli Affari Generali della Sheer abbia nascosto un tesoro. Se lo trovi ti lascerò venire con me. Diventando un cacciatore di tesori, potrai trovare oggetti rari in tutto il mondo. Niente male, vero? Beh, bene, allora ti auguro buona fortuna. Cioè questo è quello che... Non potevamo scendere. Sono tutte più o meno scorciatoie. Però questa che ragione ha di esistere? Alcanzo di l'Alba è stata quella che ... Si. Inizio di più! E' un'azcuba! Deveva conoscritto inutile! Perfettato! E' un'azcuba! Oh, no! Perfettato riguardante! E' un'azcubblico Molto, migliore! Grazie.